Buonasera, ringrazio tutte le persone che sono qui, ringrazio Palazzo Ducale che ha organizzato e sostenuto nella cornice di una Genova capitale del libro l'iniziativa di incontri intitolata la bilancia di Galileo. La bilancia di Galileo è la sua prima edizione e oggi è il primo incontro, do il benvenuto a Pierfranco Brandi Marte. Grazie, ciao a tutti. Grazie per essere qui. La bilancia di Galileo sarà un ciclo di tre incontri che poi si rinnoverà probabilmente il prossimo anno e ha l'obiettivo di collaborare con una casa editrice, il Saggiatore, ed è da qua che nasce il nome La bilancia di Galileo che gioca un po' con il nome di questo storico editore che tra il 1958 e il 1959 getta le basi della sua casa editrice e dà questo nome Il Saggiatore anche un po' in onore e soprattutto, anzi non anche un po', soprattutto in onore dell'opera di Galileo Galilei Il Saggiatore pubblicata nel 1623 che è un'opera ancora oggi considerata un'antesignana del metodo scientifico e del libero pensiero. Quello che ci interessa oggi è il rinnovamento anche che è accaduto, ha avuto il Saggiatore come casa editrice verso il contemporaneo per inglobare la contemporaneità. Loro parlano oggi di poetica del contemporaneo, questo lo fanno più o meno dal nostro secolo, dal ventunesimo secolo, hanno eliminato tutte le collane editoriali storiche e ne hanno ottenuta solo una, la cultura. La cultura è una collana editoriale che nasce proprio nel 1959, quindi agli albori della casa editrice. Mantengono solo questa, la cultura, e in questa fanno confluire tutto, la prosa e la poesia, in un senso proprio del contemporaneo di questa poetica che loro vogliono analizzare, sondare, mettere a fuoco. Quindi questi tre incontri, in collaborazione con loro, immaginati con loro, pensati con loro, con i loro suggerimenti, saranno tre incontri che daranno voce a scrittori e scrittrici del contemporaneo che parlano in maniera trasversale del nostro circostante. Questa sera il primo romanzo di cui chiacchiereremo, merito al quale dialogheremo io e Pierfranco, è La vampa. Prima parlando con Pierfranco gli dicevo che questo romanzo non vorrei incasellarlo in un genere letterario, è piuttosto un romanzo che io trovo abbia due anime. Due anime che sono una di vocazione prettamente letteraria, quindi ha una forte spinta di immaginazione, di immaginifico, di fantastico e noi vedremo perché, vedremo come Pierfranco ha costruito il punto di vista del protagonista della nostra storia che però è anche colui che ci restituisce la storia, che la racconta, che la vede e che vive queste vampate, questa vampa che gli consentono di muoversi all'interno del tempo, dello spazio e tempo. Non può interagire, non può intervenire, però può osservare, ascoltare, ragionare e restituire al lettore quello che è accaduto e quello che lui ha osservato. Perché dico il fantastico? Perché ovviamente la materia del romanzo, la materia narrativa consente agli autori e agli scrittori di spaziare, inventare, di immaginare possibilità che a noi nella realtà, in una realtà razionale, in una realtà scientifica, sono appunto precluse. Quindi la storia della vampa è la storia di questo ragazzo, di questo bambino, Annibale Angelini, che ci racconta una storia di famiglia, una storia di famiglia che si muove nella seconda metà del Novecento. E attraverso Annibale noi veniamo a conoscenza della storia della famiglia Angelini, sì, ma anche della storia dell'Italia, della storia di un centro Italia, di un'Italia che non è mai realmente raccontata con dettagli, ma è sempre sfumata, ci arriva sempre per suggestioni, per evocazioni. Quindi attraverso il nostro protagonista, attraverso Annibale, noi fluttuiamo tra una storia di famiglia, di tradizione letteraria che noi abbiamo in Italia. si può partire da, come dicevamo prima con Pierfranco, si può partire dai vicere, attraversando tutto il Novecento, quindi la storia di una famiglia italiana, per arrivare alla storia del secondo Novecento. La seconda anima, che al libro di Pierfranco, ma ne parleremo dopo, è invece una storia tutta politica, una storia politica, una storia che racconta gli anni che sono stati alcuni dei decenni più dirompenti e più significativi nella storia del Novecento italiano e su questo però magari torneremo dopo. Adesso quello di cui vorrei che parlassimo insieme, Pierfranco, è questo punto di vista che tu hai costruito, il punto di vista di Annibale, che non è un narratore esterno, non è un narratore onnisciente, o comunque in realtà lo è, ma fluttua e fa fluttuare il lettore in un intreccio che si apre e si chiude. Grazie Ilaria. Tra l'altro ricordo, non vorrei dire una sciocchezza, visto che stiamo registrati appunto, che Calvino di cui ricorre l'anniversario quest'anno parlava del saggiatore, di Galileo come un massimo esempio di prosa per tutte le epoche, o almeno lui lo considerava un modello di scrittura, quindi proprio il libro di Galileo, il saggiatore, era per lui un chiaro modello. Poi, il punto di vista e il congegno narrativo di questo romanzo. Si tratta di un bambino che ha sei anni e è mangiato, conquistato a poco a poco, posseduto da un'entità. Questa entità la potremmo definire patologica oppure sovrannaturale, non è meglio chiarito. Tuttavia succede che abbiamo una voce narrante che per questo motivo ha la possibilità di scindersi, ovvero voi quando scrivete qualche cosa, se scrivete o insomma quando si scrive, se decidete di raccontare qualche cosa dal punto di vista di un personaggio, vi dovete attenere a quello che il personaggio può sapere, può conoscere, perché in una prospettiva realistica un bambino di sei anni potrà dire certe cose. Innanzitutto questo bambino dice qualche cosa che è al di là della sua possibilità di conoscere, perché riesce a raccontare momenti, schegge di un'esistenza che lui non ha mai conosciuto, perché l'arco narrativo addirittura rimonta dal secondo dopoguerra. Questo bambino nasce negli anni Ottanta, quindi non potrebbe sapere. Secondariamente ha un'intelligenza, una maniera di esprimersi quando si sente più definita la voce di un io che non direste un bambino di quell'età sia in grado di avere. In più si snoda, viene disarticolata la sua attenzione. È come se fosse bloccato, come il protagonista di Arancia Meccanica che per punizione e per rieducazione a un certo punto, se vi ricordate quella leggendaria scena, viene legato in un cinema e tenuto con le palpebre, con le mollette a vedere delle scene di violenza a ripetizione. Ecco, il narratore di questo romanzo è fatto in questa maniera composita. Ha la possibilità di essere un bambino, ha la possibilità di essere qualche cosa di molto più grande del bambino. E queste due parti si contraggono, si trasformano, fino a che l'impasto che arriva a raccontarvi la storia ha una libertà, ha la possibilità di spaziare che non poteva esserci se io avessi scelto un unico personaggio o avessi scelto più personaggi cambiando a seconda delle scene dall'uno all'altro. E voi guardandomi così perplessi vi chiederete ma perché devi fare queste cose, non ti può essere sufficiente utilizzare un narratore in terza persona che racconta tutto e siamo d'accordo tutti quanti, siamo comodi, oppure appunto scegliere una focalizzazione interna, precisa di un personaggio e raccontarci la storia da quel punto di vista, magari cambiarla se ti serve raccontare qualcos'altro. No, non era sufficiente, non mi era sufficiente, perché non vi spiegherò fino in fondo quali fossero le mie intenzioni, perché vorrei che una parte delle mie intenzioni rimanessero oscure anche a me stesso e poi perché vorrei che ognuno avesse la possibilità di costruire anche una sua lettura. Vorrei dirvi che c'è un significato nel modo in cui si costruisce una narrazione, quindi quello che mi interessava era mostrare ogni momento, anche come sottofondo, far avere presente a chi leggeva che era in atto questo meccanismo di proiezione, di immaginazione, che è quello che c'è di più forte in letteratura, quella che è l'oggetto, il centro della letteratura, è l'immaginazione. E volevo che ci fosse sempre, come si va al cinema, di nuovo metafora cinematografica, ma insomma che si vedessero le immagini, ma si ricordasse sempre che c'è quel proiettore che da dietro le fa andare. Di nuovo, perché questo? perché il libro parla, ed è un'ossessione, penso ce l'abbiamo in molti, ma parla di manipolazione, parla di personaggi che sono a bagno in una storia e nessuno di questi, nonostante facciano parte di potentati, di gruppi molto influenti o meno influenti, nessuno di loro è esente dall'essere a sua volta strumento di qualcos'altro. E volevo che fosse evidente che perfino la narrazione stessa fosse a sua volta parassitata, fosse a sua volta dominata da qualcos'altro. Quindi questo meccanismo che ha il sapore del complotto, che ha il sapore di una minaccia che si spande intorno senza avere una precisa definizione, era lo stato nel quale io volevo gettare l'inavvertito lettore, lettrice di questa storia. Quindi facendogli provare una sensazione che io provo molto spesso di fronte agli eventi storici, di fronte a quello che mi circonda, la provo e cerco di fare qualche cosa per provarla di meno, che è quel sentimento, quella sensazione di impotenza, di distacco rispetto al motore che fa succedere, che fa andare avanti le cose. Detto in altre parole, parlando con chi ha vissuto magari l'epoca di cui racconto o che ha qualche anno più di me, c'è stato un tempo nella storia degli italiani e di noi, insomma, in cui chi è più giovane si sentiva in grado di fare qualche cosa, cioè di essere parte di un sistema che poteva essere cambiato, che poteva essere compreso, che poteva essere guidato e di cui appunto si aveva un disegno, perché c'erano ancora le ideologie, eccetera, eccetera. Mano a mano la dimensione tra, la distanza tra l'individuo e tutta la sfera pubblica, la sfera della politica, si è andata sempre di più dilatandosi e quindi il fatto di essere in un luogo in cui si avanza senza comprendere esattamente da che cosa scaturisce il presente, era qualche cosa che, è qualche cosa che mi interessava rendere, perché penso che faccia parte del nostro tempo. Naturalmente tutte queste cose che vi sto dicendo non è che, come dire, erano tutte organizzate quando io ho scelto, quando io scrivevo e dicevo, beh, adesso faccio così, faccio così. Quando si scrive tutto nasce da una pulsione, da una spinta interiore che non ha una grossa definizione e poi chi scrive, l'artista, eccetera, eccetera, quello che fa in sintesi è trovare la posizione giusta per far uscire questa forza, questa energia che poi con la sua propulsione prende una forma. Quindi quello che io cercavo di assecondare aveva questo tipo di forma. Ed è stato un lavoro per arrivare a allineare questa forma diciamo interiore, nebulosa, a una struttura che avesse uno stile, un ritmo, una musica e anche un divertimento, divertimento inteso come grande mobilità, perché volevo che si fosse dentro un flusso estremamente dinamico. Ne ho dette molte, non so se ho saziato, però la scelta volevo che fosse molto presente perché anche il titolo del libro richiama non tanto la storia che viene raccontata, il contenuto che appunto è una storia che parla di una famiglia molto potente, molto ricca e che ha una storia che va dal dopoguerra fino a Tangentopoli quando cade la Prima Repubblica. Questa è la vicenda. Non ho scelto un titolo che parlasse di questo, ma bensì un titolo che avesse a che fare con la forma con la quale è raccontata la storia. Quindi già lì c'è l'intenzione di calcare questo tipo di scelta. Se questa storia l'avessi raccontata in una maniera come quella che vi dicevo all'inizio, mi sarebbe interessata meno perché comunque è una storia molto nota, è raccontata in molte forme, ci sono molti documenti che ne parlano, ci sono saggi, ci sono soprattutto verbali di processo, quindi è possibile attingere a questo materiale. Per me valso la pena occuparmene perché mi sembrava che fosse disposta a, con questa forma acquisisse un valore. Ed è qua che si parla delle due anime di questo romanzo, quindi come dicevamo prima, il processo creativo, il processo di immaginazione, l'invenzione, il trovare un modo in cui strutturare una storia che spazia laddove la mente dell'artista lo conduce e gli permette di creare, di inventare situazioni e contesti e mondi e modificare il circostante. Su questo però si innesta invece qualcosa di molto pregno, di molto reale, di molto sentito. E quello che succede nel romanzo di Pierfranco Brandimarte, che non a caso lui cita il concetto di manipolazione, dell'impotenza e del distacco, è questo. A me capita spesso che qualcuno chieda perché leggere romanzi di letteratura contemporanea, perché leggere la contemporaneità che rilegge il passato. Ecco, perché ogni volta che un autore, un'autrice del presente mette mano anche al passato e lo reinterpreta con la chiave di lettura di un presente che è in continuo movimento e cambia e si sposta, quel tipo di approccio, quel tipo di lettura anche del passato si modifica insieme alla contemporaneità. Quindi è necessario leggere, continuare a leggere, rileggere quella che è la nostra storia, quella che è la nostra evoluzione anche attraverso gli occhi di chi continuamente prova a farlo. Quindi nella contemporaneità e non solo i classici che poi comunque in un certo momento erano dei contemporanei e anche loro poi superano insomma l'oblio della storia e diventano classici perché qualcuno determina, il pubblico, i lettori, i critici determinano che quei libri lì hanno segnato qualcosa a livello stilistico, a livello contenutistico in maniera importante e quindi rimangono. Però continuano ad essere scritti ed è importante che continuino ad essere scritti, se no ci potremmo fermare a Omero, potremmo fermarci all'epica di Omero perché più o meno i temi erano stati trattati in maniera quasi totale, mentre è il contesto, è la storia, è quello che accade, il circostante che ci permette di affrontare l'appartenenza umana però declinandola alla realtà che ci circonda. Quindi che cosa succede nel romanzo di Pierfranco Brandimarte? Che mentre leggete delle storie che si intrecciano di politici, di mafiosi, di corrotti, di persone potenti, di donne che appartengono a famiglie potenti e vivono nel lusso, c'è uno straniamento continuo tra la chiara percezione che Pierfranco stia parlando della P2, di Liciogelli, degli anni di Tangentopoli, del terrorismo, delle guerre di mafia che avvengono nel sud Italia, ma anche di un qualcosa che a noi è familiare, cioè di un tipo di mentalità corrotta, di mentalità che sopprime gli altri o li soverchia, che appartiene a tutti noi continuamente da sempre, perché quando tu parli di manipolazione possiamo saltare indietro, possiamo saltare i promessi sposi, cioè possiamo fare salti indietro nella letteratura della nostra storia, perché è da sempre che questo tipo di manipolazione appartiene alla società umana e alle dinamiche di potere. E quindi la cosa interessante, molto interessante, del taglio del libro di Pierfranco sugli anni del terrorismo e gli anni di Tangentopoli è questo continuo sbalzo tra un contesto storico chiaro e conosciuto e un contesto quasi, anzi direi, attuale. Quindi è questa la cosa che ho trovato sicuramente più interessante rispetto al fatto che, come dicevi tu, può essere un tema che è già stato scritto, tradotto, affrontato, però il tuo taglio è un taglio attuale, cioè che sfocia nell'attualità. Hai detto cose molto dense, quindi dietro quello che dicevi c'è il concetto di un essere umano che cambiando i tempi, dicevi, è come se la sua forma, la sua natura invece restasse pressoché invariata, quindi cambiano le tecnologie, cambiano i sistemi politici, però in qualche modo determinate cose restano simili. Su questo non potrei essere d'accordo e questo dimostrerebbe anche come noi occidentali, in particolare ricorriamo molto spesso e oggi c'è un nuovo rifiorire di affetto verso la mitologia dei greci, che è un po' il nostro sostrato, quasi come se rappresentasse un po' il nostro inconscio, il livello, una sorta di specchio, cioè ogni volta si parla del mito come qualche cosa in cui tornare a specchiarsi per capire di nuovo chi siamo. Torniamo al mito e diciamo, o i classici, no? I classici sono lì e brillano sempre, sono come delle stelle che segnano la nostra via. E oggi ci sono tante riscritture, ci sono tanti scrittori che sono tornati a prendere storie già conosciute, mitologiche, le hanno riraccontate, però molto spesso, come dicevi tu, hanno messo l'attualità, come l'hanno messa l'attualità, hanno riscritto questa storia secondo questioni di nuovi equilibri che ci sono nella nostra società di oggi. Quindi abbiamo le donne che prendono la parola e raccontano la loro parte in quelle storie, è come se tornassimo su quel materiale per rendergli giustizia, perché in qualche modo ci rendiamo conto che essendo questa mappatura di tutti noi mancavano dei pezzi. Quindi certamente l'uomo ha delle prerogative che restano fedeli a se stesse, ma nello stesso tempo la società cambia, si muove e ha questo bisogno di andare ad aggiornare quello che c'è stato prima. Sto facendo una lettura, no? In base a questi dati. Quindi l'attuale può andare nel passato per trascinare di nuovo fino a noi. C'è anche un altro caso che mi viene in mente, perché per me non è pacificata questo rapporto, non è mai pacificato, perché da una parte c'è la prospettiva filologica che ti dice, figlio mio, i greci erano una società che, come molte stati attuali, avevano una democrazia interna e praticavano un imperialismo spietato fuori. Poi dopodiché ci avevano gli schiavi, avevano un rapporto rispetto alle donne che era aberrante dal nostro punto di vista, quindi diciamo che non erano proprio dei modelli da prendere, anche lo stampo dei poemi epici che gli facevano da modello, Omero, eccetera, erano prettamente basati sulla guerra, no? Quindi diciamo che i nostri modelli dovrebbero, secondo i nostri ideali, essere aggiornati, anche se gli eventi storici ci dicono che... stiamo sempre là. Mi viene in mente invece un discorso che facevamo ultimamente su Ovidio. Conosciamo Ovidio per le metamorfosi, soprattutto per le metamorfosi, però Ovidio è uno che ha ripreso il mito anche per far parlare personaggi che non parlavano. Oppure ha scritto dei manuali, ha scritto manuali per dimenticare un grande amore, ma sono proprio manuali che ti danno dei consigli proprio precisi, molto pratici e manuali per far innamorare di te l'altro. Quindi oggi si pubblicano tantissimi manuali, sia di consigli di autoaiuto, quindi per i tempi, no? Ecco, si ristampano e si dice che bello i classici, quanti erano saggi, quanti erano avveduti, che luce, ancora ci illuminano da laggiù, no? Poi ti vai a Ovidio e la prima parte del libro è un manuale che ti insegna come stuprare le minorenni. Diceva, questi classici comunque, sempre grandissimi i classici, non dimentichiamo mai i classici. E non li dimentichiamo mai, giustamente. Ma per non prendere troppe tangenti, che hanno anche a che fare con il libro, direi questo, che siamo inevitabilmente, quando scriviamo dall'altezza dei nostri giorni, siamo inevitabilmente contemporanei. Quindi, anche se si scrive di qualche cosa accaduto nel Quattrocento, ecco, o io faccio il filologo pedante, quindi devo andare lì, no? Però ci dovrò mettere sempre quella fiammella del sentimento che lo devo prendere da oggi per metterlo lì, no? Altrimenti non si regge. Farò sempre da ponte. Nel mio caso mi interessava questo spaccato storico perché penso che abbia a che fare con come sono andate poi le cose successivamente. Per me era uno spiraglio che mostrava delle cose che ancora si muovono. La grande frattura che c'è stata con il periodo di Tangentopoli, poi la cauta del muro, ha cambiato il mondo, cioè c'è stato veramente anche in Italia un rapporto con la politica che ha mutato per sempre. Poi si scelgono sempre dei momenti iconici, per dirlo. Poi le cose si muovono più di nascosto, più progressivamente. Però è veramente un periodo storico pieno di segnali, di elementi fervidi. E poi è anche un momento che rappresenta un epos, cioè dentro quegli anni lì c'è di tutto. Le collusioni che c'erano, parlo al passato perché i dati me lo possono far dire, oggi magari quelle cose continuano, ma non ho il dato. Quel rapporto che Tangentopoli a un certo punto inizia a ricostruire tra la politica e il mondo dell'azienda e dell'industria aveva questo ponte che non sono mai riusciti a connettere del tutto, che passava per le cosche mafiose. Quindi era un grande circuito, narrativamente parlando, estremamente interessante. Dopodiché la questione dell'attualizzare ha a che fare con il dare il sangue vivo a una cosa morta. Cioè, come faceva sempre per rifare i miti, Ulisse quando va a parlare con i morti, gli spiegano che se vuole parlare con questi morticini, che sono delle ombre, sono impalpabili, deve fare questo procedimento che in greco si chiama, se non sbaglio, nechia o qualcosa del genere, insomma deve dargli del sangue, loro lo bevono e una volta che bevono il tuo sangue parlano. E' la stessa cosa, quando ti occupi di cose del passato, se vuoi dargli carne, se vuoi farle muovere, devi dargli del tuo sangue. Quindi io scrivendo questo libro ho parlato di cose che mai posso conoscere, quindi famiglie ricchissime, potentissime, eccetera, però mettendoci dentro delle cose che fanno parte di me, che servono perché io possa entrare a immaginare, a capire, a far parlare tutto quel grande altro che mi sfuggiva. Quindi l'attualizzazione che dicevi da una parte è venuta in questa maniera, tant'è che il bambino che è nato negli anni Ottanta mi serviva anche come una sorta di testa di ponte che potesse rappresentare una mia presenza, che chiaramente io sono nato negli anni Ottanta e sarebbe stata diversa questa storia se io invece fossi nato negli anni Cinquanta e avessi vissuto questa vicenda in un altro modo. Quindi queste sono delle strategie per riportare il passato nel presente. Scrivere un libro che è totalmente appoggiato su una vicenda passata, credo che sia anche impossibile da fare, senza che gli arrivino degli spiragli anche incontrollati. Delle volte per giocare dico che mi piacerebbe tantissimo scrivere un libro che parla di cavalieri che si danno delle mazzate in un medioevo abruzzese, eccetera, ma anche facendo quel tipo di gioco lì, che assomiglia un po' alla vicenda del pasticcere trotschista di Moretti, quando gli chiedevano cosa vorresti fare, un musical su un pasticcere trotschista, e gli dai dentro delle cose che provengono da questo tuo momento attuale. E che altro? Vero è che mi dicevi che, adesso non ricordo se in fase di editing o comunque in fase di lettura, qualcuno andava a cercare di mettere un po' le coordinate, no? Perché c'è anche questo senso, quando si pensa di leggere un libro che parla degli anni di Piombo, degli anni di Tangentopoli o del caso Sindona, c'è sempre questa volontà di andare a capire chi è chi, no? Se questo personaggio tu lo hai rappresentato, ma teoricamente è Licio Gelli, se quella... ma hai detto che c'è anche questo tentativo di lettura, che poi però in realtà non porta a niente, perché proprio il bello del tuo libro è che hai comunque sfalsato e c'è questo sapore, questa suggestione, ma non c'è un reale calco di quegli anni con sicuramente i nomi e i personaggi. Sì, perché chi di voi non conosce, non ha delle nozioni su quel pezzo di storia d'Italia, non è che è ostacolato nel seguire la vicenda. Chi invece la conosce può avere la tentazione di andare ogni volta a capire chi si nasconde dietro i nomi di invenzione, che tra l'altro alludono e richiamano anche in maniera sonora il personaggio a cui si ispirano. Quindi non volevo che si trasformasse in una caccia al tesoro, dicevo chi conosce qualche cosa potrebbe essere tentato nel farlo, però verrà comunque frustrata questa ricerca, perché i personaggi sì sono ispirati, c'è il segretario del partito socialista che si chiama Zagorat, qualcuno potrebbe leggerci, c'è il presidente del consiglio del tempo che è chiaramente Andreotti, però io quando ho costruito questi personaggi qui li ho fatti con pezzi che provenivano anche da altre cose, perché non semplicemente per fare un'operazione che aiuti il lettore, perché il lettore io lo considero sempre dieci volte migliore di me, quindi non è che gli devo fare la strada più facile, ma perché se tu utilizzi dei nomi reali sarai molto più inchiodato dalla realtà di quelle presenze, aggirà molto meno la tua immaginazione, la tua libertà di interpolare, di combinare le cose, perché se io ci mettevo Andreotti, se ci mettevo Craxi, Licio Gelli, sì magari riuscivo a muoverli allo stesso modo, però volevo un attimo limare quella verosimiglianza, quella verità del nome e dare maggior risalto invece a quello per cui magari si leggono dei romanzi, cioè vedere scatenata l'inventiva di chi li scrive. Quindi ci saranno dei dettagli molto piccoli che sembrano grotteschi, assurdi, che però, non ve ne frega niente, però sono effettivamente corrispondenti alla realtà, sono riscontrabili. Come ci saranno invece delle cose di macro struttura che sono delle idiozie, che sono delle libertà che mi sono concesso. La più grande di tutte è quella di una mafia che dovrebbe essere la mafia siciliana, che a quei tempi aveva il comando, aveva preso il sopravvento nel sud Italia, in particolare i corleonesi dopo le stragi degli anni Ottanta, la guerra di mafia degli anni Ottanta. Quella mafia non risulta essere siciliana e parla in un dialetto che qualcuno riconoscerà, nessuno credo, ma non corrisponde. E questo vorrei che non fosse un problema. Anzi, questo è il marchio che suggerisce il fatto che si procede in un terreno che non è tutto dello stesso tipo, cioè si ha la possibilità di sprofondare e di tenersi, è un terreno indistinto, è un terreno che oscilla. Sì, e questi poi sono proprio quegli aspetti che nella letteratura contemporanea, ma poi non solo, danno anche un po' il ritmo al libro, gli dato la sua espressività, il suo stile, perché è una cosa che magari adesso leggendo un brano possiamo anche far cogliere a chi ci sta ascoltando, è anche l'uso che tu fai, le scelte lessicali, le scelte di uno stile di punteggiatura, di sintassi, che comunque sono tue, ti appartengono e che non è sicuramente uno stile che io definirei lineare, piano, no? Anche il tuo ritmo, i tuoi cambi di prospettiva, anche legati magari delle volte proprio alla cronologia, ti hanno consentito di dare un movimento a questo romanzo che è sicuramente un altro degli aspetti molto interessanti che si possono trovare. Quale parte leggo? Dicevi magari quello delle terme? Già un eterme. Che è un po' all'inizio, non riveliamo. Sì, questa è la parte un po' più tenera. Si può dire tenera. Si può dire tenera. Tenera, si può dire tenera. Nostra madre ci portava alle terme, me e mia sorella, perché avessimo dei problemi o per precauzione non so, ma certe volte ho pensato che la vampa mi fosse venuta non per la morte del fondatore, ma per il vapore caldo filtrato nel cervello e per l'acqua sul furia ficcata nel naso e circolata su e giù in abbondanza. Funzionava in questo modo. Salivamo in macchina la mattina presto con dei cieli puliti. Erano sempre dei giorni limpidi quando andavamo alle terme di acqua santa con la mamma, la bambinaia e Tatolino, che guidava la macchina nera. Nostro fratello, Carlo Antonio, non ne aveva bisogno, era sano e studiava all'estero, tornava alle feste. La bambinaia si chiamava Tata Michela. Nostra madre sceglieva le stanze, ci toglievamo i completini sportivi e mettevamo l'accappatoio con sotto il costume. Mia sorella aveva già delle forme e tra poco non si sarebbe spogliata liberamente. C'era il seminterrato ricoperto di piastrelle bianche, una vibrazione di lavatrice in moto che riassestava le goccioline di condensa sui muri. Era la sala della terapia, dove sfogavano gli erogatori. I corpi dei pazienti, allineati contro i muri, seduti su sgabbelli di metallo. Il loro viso sparito dentro la nicchia dell'Ariosol. Ricordo la nettezza di quei corpi che si interrompeva verso il collo nel riflusso dei vapori. Mi mettevano dei cuscini sotto per arrivare all'imbocco. Ci inserivamo nella nicchia buia seguendo le istruzioni, ingoiando il fumo e l'odore d'uova marce. Io e mia sorella, nelle nostre postazioni affiancate. Stavamo lì decapitati per mezz'ora e lei doveva tenermi la mano. Io immaginavo di gonfiarmi come un palloncino e sentire, prima o poi, di levitare. Gli altri si sarebbero sollevati coi corpi allineati al pavimento, sospesi nella stanza di piastrelle bianche come missili incagliati nell'impianto di Ariosol. Le teste che avevano scavato un buco nel muro sfracellandosi. E anche noi, io e Gloria, coi corpi in aria sopra i cuscini, in linea orizzontale. Nostra madre poteva guardare dall'oblò del portellone, assistere al lento riempimento dei pazienti, a loro hissarsi a comporre, grado per grado, la scena dello scontro avvenuto, dei muri espugnati dalle teste, segno che la terapia faceva effetto. State buoni, ci diceva. Poi, al piano di sopra, sceglievamo i dolci dalla vetrina del bar, ci comprava giornalini e giochi. E io, zitto, indicavo col dito ciò che volevo, con la paura segreta di schizzarmene via se aprivo troppo la bocca. Rimbalzare nei soffitti, scontrare lampadari, trovare la finestra e partire in cielo come un palloncino forato, col gas in propulsione. Gloria era troppo grande e troppo stupida per sapere che ci si poteva perdere lontano, atterrare giorni dopo sui recinti di una casa sconosciuta, sgonfiati, restare appesi come una gomma vecchia e ingiallita. Io, invece, lo sapevo già. Nell'atrio scendevano quelli con l'accappatoio e gli occhiali da vista appannati, bevevano dei giganteschi bicchieri d'acqua scura, strabuzzavano gli occhi tanto se ne riempivano, e nostra madre con le riviste aperte e il crocifisso al centro del petto li chiamava avvocato, ingegnere, o Pier Giorgio, Angelo, Gabriele, e anche nomi femminili quando c'erano delle donne, con la pelle vecchia che veniva fuori, usurata dalle allacciature, e asciugamani a volte atturbante intorno al capo, e gioielli grossi come olive. Spandevano odore freddo di creme, chiedevano, chi è questo signorino? E io avrei risposto educatamente se non mi fossi dato la consegna del silenzio. E allora parlava la bambinaia, diceva, fa il timido, si chiama Annibale. Grazie per questa lettura. Io ringrazio. Grazie Ilaria, grazie mille a voi. Grazie Marco per essere venuto qua con noi, e ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questo incontro. Il prossimo incontro della Bilancia di Galileo sarà il 22 di novembre, e con noi Stefano Valenti e le cronache dalla sesta estinzione, sempre insaggiatore.